L'Aquila termina la sua stagione regolare in eccellenza battendo con un largo 6-0 lo spoltore. Pronti via e i rosso-blu di Lore andrebbero subito in vantaggio. Carbonelli coglie il palo dal limite e sul pallone vagante arriva Sciba che insacca. La rete della punta aquilana però dopo un lungo conciliabolo tra arbitro e assistente di linea non viene convalidata. Nessun dubbio invece al 14esimo tiro di Sciba rimpallato dalla retroguardia spoltorese. La sfera arriva di Ruocco che in diagonale batte Palena per l'1-0 l'Aquila. Tre minuti dopo si fa vedere lo spoltore con Selva Allegra che testa i riflessi di De Chirico. È però solo una fiammata al 22esimo, infatti arriva il raddoppio dell'Aquila cross dalla destra e perentoria incornata di Sciba che non lascia scampo a Palena. Lo spoltore torna in avanti al 31esimo girata di Colecchia alzata in angolo dal portiere dell'Aquila. I padroni di casa sono in pieno controllo e al 34esimo calano il Tris. Segna Massetti che si fa trovare pronto a centro area e con un destro secco batte Palena. Ripresa all'undicesimo l'Aquila fa 4-0 grazie alla stoccata vincente di Dercole che piazza la sfera alla destra di un Palena inutilmente proteso in tuffo. Tabellino Aquilano che si aggiorna ancora alla mezz'ora. Sciba raccoglie un invito di Di Ruocco e batte Palena per il pocherissimo rosso-blu. Prima del triplice fischio finale c'è tempo anche per il 6-0 dell'Aquila. A segnare Saurino è entrato a gara in corso con un bolide dai 16 metri imprendibile per l'estremo difensore dello spoltore. La partita finisce così per l'Aquila all'orizzonte della semifinale play-off con la Torrese. Lo spoltore invece attenderà nei play-out la vincente di Penne Casalbordino.